priverno provincia di latina oh stai zitto che stai a fare ma che fai piccolino questo è un pelosetto che gira spesso a priverno forse di qualcuno ed ha una zampina così guarda il piccolino senza una zampa praticamente non c'ha una zampina un cagnolino bello tanto bello affettosissimo gioca con tutti ogni volta che lo incontriamo facciamo un sacco di coccole perché anche se gira spesso per il priverno è tranquillo piccolino che abbiamo deciso l'ho chiamato da giù ed è venuto di corsa nonostante la sua problematica che c'ha una zampa di meno vedi però tutti fanno un sacco di coccole perché buono 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 non sappiamo un nome non sappiamo manco se c'è un microchip non posso neanche controllare che mi stanno a lavar la macchina però è buono vedi se mette qui si mette seduto e mi fa compagnia perché chi ama gli animali non rimarrà mai da solo grazie piccolino della compagnia grazie grazie ecco si è seduto apposta aspettiamo la macchina se siamo pure sdraiati vai